Il 20 maggio di 17 anni fa moriva a Roma Renato Carosone, o una pietra milare della musica italiana. Un innovatore, un virtuoso del pianoforte, un genio che ebbe anche la fortuna di circondarsi sempre di musicisti straordinari e poliedrici. Quando nel 1952 lì triolandese Van Wood lasciò il trio per trasferirsi a New York e continuare la propria carriera come solista, Carosone e il prodigioso batterista G. G. Di Giacomo ricostituirono il gruppo, che divenne dapprima un quartetto quando entrarono a farne parte, per un breve periodo, il chitarrista Elek Baxic e il cantante Ray Martino, il quale incise sia melodie napoletane come Luna Rossa e Nu Quarto e Luna, che pezzi umoristici come Papaveri e Papere e Buona Pasqua. La prima trasformazione avvenne all'inizio del 1953 con l'entrata in scena del chitarrista Franco Cerri e del cantante Claudio Bernardini. In seguito, Piero Giorgetti entrò nel complesso al posto di Claudio Bernardini, che continuò la carriera in altre formazioni. Il gruppo si assestò definitivamente con la giunta di Alberto Pizzigoni alla chitarra e di Riccardo Rauchi e i Fiati, Sassofono e Clarinetto. Il 3 gennaio 1954, alle 3 del pomeriggio, Carosone si presentò agli italiani attraverso il piccolo schermo, che aveva appena 4 ore di vita, con il primo programma musicale, l'Orchestra delle 15. Lui e i suoi compagni furono i primi musicisti ad apparire in televisione. Copyright riproduzione riservata. Domenica 20 maggio 2018, ultimo aggiornamento, 0 e 10.